Questa è una partita durissima come tutte le partite di questo girone, noi anche senza fare un primo quarto bellissimo però diciamo che abbiamo indirizzato la partita dove era per noi più congeniale senza far correre Rieti. Secondo quarto invece questo non è successo, brava Rieti a metterci più pressione però noi abbiamo commesso gli errori che non avremmo dovuto fare, tanto è vero che avevamo preso un break importante ricucito da Mastellari nel finale di primo tempo, quindi poi il terzo quarto è andato via punto a punto perché Rieti se non avrebbe battuto Manto non vinceva a Ravenna e nel quarto quarto le giocate, i ragazzi sono stati bravissimi, naturalmente le giocate dei singoli, vedi Jackson, Roderick, Mastellari però abbiamo fatto una grande prova di squadra anche oggi, abbiamo vinto queste due trasferte quindi insomma siamo molto contenti. Sappiamo che Rieti fa dell'aggressività, una delle sue armi migliori perché comunque ha giocatori come Tucker e tanti specialisti difensivi dai quali poi loro prendono forza anche per giocate offensive in contropiede che è quello che ci ha fatto molto male nel secondo quarto. Siamo questa di bravi a gestire questa situazione e magari a trovare invece i mismatch in attacco gestiti a volte da Roderick, abbiamo trovato dei gran canesti da Jackson e Mastellari, siamo stati anche un po' più bravi in attacco a gestire meglio la loro pressione in uscita dei blocchi perché al primo tempo non erano riusciti a bloccare Jackson che invece al secondo si è acceso e è stato determinante.